Io sono Jennifer, una studente sanzi terzo anno di tecnico di laboratorio. Ricordo che all'inizio non capivo l'italiano perché non avevo esperienza della lingua e pensavo che il corso fosse in inglese, perché prima ero in inglese, ma non ho mai mollato perché io so cosa voglio. Quello che posso dire è che il laboratorio non è solo una materia o un lavoro, ma un obiettivo che rendo caro al mio cuore e mi diverto. Gli insegnanti sono molto professionali, sono molto pazienti e ci aiutano non solo a capirli, ma anche a metterli in pratica, cioè bene anche in laboratorio, su ciò che ci hanno insegnato. Grazie Jennifer. Vuoi dare il tuo contributo Susanna? Salve a tutti, sono Susanna De Martini, rappresentante e studentessa del secondo anno del corso di laurea di Tecnici in laboratorio biomedico appunto. Sono molto grata e contenta di aver scelto Unica Millus, soprattutto anche per il rapporto con i docenti che sono sempre molto disponibili e competenti. Sin da piccola ho scelto di fare il tecnico di laboratorio, perché mio padre fa questo mestiere e mi portava in tutti i laboratori dall'età di 5 anni. Con Unica Millus e soprattutto con le convenzioni presso le migliori strutture ospedaliere ho potuto approfondire questa mia passione e quindi anche metterla in pratica e capire i diversi sbocchi professionali che ci sono per questo corso di laurea. Un'altra cosa che volevo dire è che la figura del tecnico di laboratorio è come un ponte tra il medico e il paziente che è sempre al centro di ogni analisi e di ogni cosa e quindi sono contenta di aver scelto Unica Millus sia perché ti forma dal punto di vista professionale ma anche abbiamo visto umanitario.